Fai scorta di pellet dall'Heroi Merlin. L'aumento del costo del gas spinge molti a scegliere le stufe a pellet, soluzioni economiche e pratiche per riscaldare la casa. L'Heroi Merlin offre bancali da 66 sacchi di pellet Swiss Plus 26 M Plus A1 a solo 449 euro, soluzione ideale per un inverno confortevole e economico. Un'altra offerta imperdibile dall'Heroi Merlin sono 66 sacchi di pellet Ikea certificato in plus A1 a 549 euro, con consegna gratuita al piano strada. Con le super offerte di L'Heroi Merlin è possibile acquistare il pellet Candian Power N Plus A1 a 4.99 euro per sacco da 15 kg. Approfittatene!